Più incidenti ma con meno morti. I numeri forniti da polizia stradale e carabinieri per il 2016 fanno registrare uno 0,8% in più di sinistri e più 0,7% di feriti. Incrementi minimi compensati però dalla buona notizia del calo delle vittime. Se si considerano infatti solo gli incidenti mortali se ne contano 67 in meno con 76 deceduti in meno, il 4,5% di calo rispetto al 2015. Una percentuale apparentemente significativa ma deludente se si pensa che l'anno appena concluso è stato il primo che ha visto in vigore nei suoi ultimi nove mesi la legge sull'omicidio stradale. L'effetto deterrenza appare molto limitato se confrontato con quello che accadde dopo l'introduzione del provvedimento sulla patente a punti. Allora il calo di incidenti e morti si attestò addirittura intorno al 20%. Quanto alle tariffe RC il sito facile.it ha calcolato una lievissima diminuzione del numero di persone che quest'anno sarà costretta a spendere di più, meno 0,3%. L'analisi ha riguardato un mezzo milione di preventivi online. Ne è emerso che tra le donne quelle che hanno denunciato un sinistro sono state il 4,68%, più virtuosi gli uomini, 3,81%. Infine le categorie professionali sono i pensionati quelli che avendo effettuato più incidenti pagheranno di più quest'anno. Rappresentano il 5,21% del totale dei pensionati. Seguono tra i disattenti medici e infermieri 4,66%. Al contrario i migliori al volante si confermano ancora una volta agli appartenenti alle forze dell'ordine. Tra questi coloro che hanno denunciato sinistri con colpa sono appena il 2,76%.